e 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 grazie grazie di essere come oggi oggi parlerò veramente di tutto perché voglio concentrarmi nel tapping sulla fotocamera infatti non sentite l'aggiu non è il solito ma è appunto quello della fotocamera perché l'ultimo 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 l'altimo l'ultimo 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 perciò l'ultimo Quindi vi faccio un video Grazie a tutti. 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 Bene. 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 Buonanno. 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 Buonanno.